Autenticità Proteggere le nostre risorse, sempre più preziose, anche se non ce ne rendiamo conto Perché nella nostra terra sono conservati tesori unici, eccellenze desiderate e riconosciute in tutto il mondo Perché è la nostra storia, la nostra cultura, l'identità a renderci l'anima vera e attiva nel borgo e nella comunità E solo dopo aver compreso il grande valore autentico che ci distingue Possiamo sviluppare un turismo sostenibile che ci unisce e ci fa conoscere al mondo Con l'accoglienza che solo noi sappiamo dare Il borgo è un equilibrio autentico e la rete dei borghi e cooperativi un sistema economico sostenibile Attento all'uomo, all'ambiente e al bene comune Borghin, in rete, si cresce Borghin, in rete, si cresce Borghin, in rete, si cresce